verità 29 il sole e la luna funzionano come un prisma fra la terra ed il firmamento di vetro le tre differenti direzioni della luce del sole quando il sole è vicino a noi funziona come un prisma questo significa a mezzogiorno grazie Oh Oh Nell'intervallo fra il mezzogiorno e il pomeriggio si formano i parelii, in altre parole i parelii sono la transizione fra gli aloni di mezzogiorno ed il sole doppio che si verifica giusto prima della notte. Quelle due luci che si vedono in ogni parte del sole è l'inizio della formazione del secondo sole. Oh 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti